Parola del Signore Il primo brano della Messa è tolto dal libro dei giudici troviamo già quel comportamento del popolo eletto che costituirà la costante che segnerà la storia di Israele c'erano periodi in cui gli ebrei erano fedeli all'alleanza e allora Dio mostrava loro i suoi favori e vi erano momenti in cui essi adoravano le divinità pagane e allora Dio li puniva li puniva per farli rientrare nella fedeltà all'alleanza una punizione pedagogica in vista di una redenzione di un ravedimento, di una conversione mai una punizione vendicativa come mai questa alternanza di fedeltà e di tradimenti? la Bibbia ne spiega anche la causa il benessere materiale quando il popolo stava bene dal punto di vista materiale allora egli dimenticava Dio quando stava male allora tornava il Signore non ci comportiamo così anche noi si dice che durante le guerre le chiese si riempiono ma appena appare il boom economico cominciano a svuotarsi prendiamo Dio quando ci fa comodo quando le cose vanno a confievere allora facciamo meno della religione non è così a un certo punto Dio suscita i giudici per liberare il suo popolo dai nemici esterni chi erano questi giudici? erano condottieri carismatici il cui ruolo però si limitava abitualmente al periodo di emergenza finita l'emergenza tornavano alla vita normale che strano che bello strano perché difficilmente troviamo un condottiero che salva un popolo e poi torna a zappare la terra c'è stato qualcuno di simile ma a caso raro anche durante l'impero romano se anche i nostri parlamentari imparassero questa lezione di servizio occasionale o d'emergenza l'abitudine tipicamente italiana è di tutt'altro genere prendi una carica e non la molli più e anche quando sei costretto per età o per altri motivi a lasciarla il potere rimane attaccato alla persona fino alla sua morte finito l'incarico non sarebbe bello che si tornasse al punto di partenza senza compensi senza titoli senza carriera perfino senza amicizie che contano ciò che mi ha sempre colpito di questi giudici era il loro carisma che normalmente rimaneva nascosto ma che nei casi di emergenza usciva allo scoperto e veniva messo a disposizione della comunità o del bene comune credo che ognuno di noi abbia dentro nascosta un'energia quasi repressa oppure del tutto sconosciuta sconosciuta noi stessi basta un'emergenza e si scoprono energie vitali impensabili è quanto succede ad esempio durante le emergenze cosiddette naturali terremoti frane eccetera e allora che si vede il popolo italiano migliore è vero che siamo sempre in emergenza per cui dovremmo ogni giorno sapere disseppellire il meglio che c'è in noi ed è vero che basta poco un po' di falso benessere per chiudere questo meglio nella tomba dell'egoismo nel secondo brano della messa troviamo una commovente autodifesa di San Paolo dobbiamo ricordare che l'apostolo non si limitava a confortare i cristiani già formati ma andava ad annunciare il Vangelo nelle città più pagane e le città ancora più refrattarie più chiuse la buona novella erano quelle dove si mescolavano tutte le correnti religiose e filosofiche del tempo là dove ci sono i miscugli è difficile annunciare la verità radicale era già la moda di allora fare delle varie religioni una specie di cocktail una moda sempre attuale San Paolo si autopresenta come diverso dagli altri maestri che cercano consenso onori e anche profitto Paolo è il messaggio di Cristo ci tiene a difendere la purezza della sua missione non lo fa per vantarsi come potrebbe al momento sembrare non è tanto orgoglioso delle sue forze o del suo operato quanto di servire il Signore senza farsi condizionare da altri motivi poco nobili e senza scendere a compromessi caratteri così tenaci e così fedeli alla causa del Vangelo non possono che essere radicali giudicati talora eccessivamente duri intoccabili inflessibili con la scusa di saper comprendere tutti di essere disponibili misericordiosi non si rischia forse di venire meno alla radicare del Vangelo anche Cristo è stato misericordioso ma con i deboli non con i potenti o con i ricchi certo era amico anche dei ricchi pensate a Zaccheo e anche dei capi pensate a Nicodemo ma questo è il bello il suo intento perché andava a mangiare certe volte da loro non è andato a mangiare per farsi comprare o per portare a casa chissà che cosa il suo intento era quello di convertirli qualcuno si dimentica di questo non è manca il signore andava a mangiare con i scioli certo andava per convertirli non mi pare che la Chiesa abbia capito questa lezione anche oggi va nelle case dei ricchi per ricevere favori o per scambiarsi i privilegi senza guardare troppo per il sottile ingoiando anche rospi velenosi e così la Chiesa crede di servire meglio il Regno di Dio meglio ovvero ingigantendo la propria struttura dimenticando che più la struttura si ingrossa più lo spirito santo emigra altrove San Paolo nel brano di oggi rivendica la sua purezza di intenti rivendica il proprio attaccamento al Vangelo senza condizionamento senza cercare il piacere degli uomini ma unicamente servendo il Signore non si è approfittato della sua missione per cercare la propria gloria per fare carriera per ricevere i favori dal potere e neppure per cercare il consenso tra la gente annunciava la parola di Dio senza volerla mediare per evitare di urtare la suscettibilità della comunità cristiana o per fare progetti tra i pagani se imparassimo questa cosa certo in tutto anche nella politica la pulizia del consenso no? ecco quando dovremo votare tutti prometteranno per ricevere il consenso della gente ecco se certe volte poi il nostro difetto è di preti cercare di contentare tutti per ricevere il consenso come se è bravo questa radicalità evangelica non ha reso duro o insensibile il cuore dell'Apostolo siamo stati lo dice lui lo scrive amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli e alla fine del brano cita anche il padre meno male no? cioè madre padre tutti e due insieme perché a certe volte diciamo che tocca sempre la madre educare i figli come un padre fa verso i propri figli abbiamo esortato ciascuno di voi e come i genitori per amore dei figli sono pronti a nemmatirio così Paolo era disposto a dare la propria vita così affezionati a voi scrive ancora avremmo desiderato trasmetterevi non solo il Vangelo di Dio ma la nostra stessa vita questi genitori moderni che apparentemente vogliono essere tanto amorevoli verso i loro figli da accontentarli in tutto non comprendono che facendo così li rovinano fermezza e amorevolezza mente e cuore saggezza e comprensione pazienza e attenzione tremorosa come conciliarli per il vero bene dei figli non è facile poi in concreto San Paolo era arrivato al punto di lavorare anche fisicamente per mantenersi senza perciò fare affidamento unicamente sul proprio ministero senza tuttavia trascurare la lucia del Vangelo lo ha fatto per non essere di peso alla comunità lo scrive lui qui le cose da dire sarebbero tante le pagine che la Chiesa ha scritto sono parecchio vergognose pagina che continua ancora oggi a scrivere mi chiedo dove la gratuità di Dio sia finita dove dove è finita gratuità di Dio mi chiedo come Dio abbia potuto convivere con le forme peggiori della simonia ecclesiastica simonia vendere le cose sacre speculare sulle cose sacre tutto abbiamo messo in commercio a parte i beni sacri anche le anime abbiamo venduto le messe i sacramenti la stessa grazia di Dio ogni cosa che si fa in questo regno di Dio ha un suo costo e poi predichiamo bene sulla spiritualità o sull'altruismo o sulla gratuità da una parte ci sono documenti ecclesiali di alto valore opere stupende di spiritualità libri di perghiere di ogni tipo e poi a che cosa assistiamo al commercio della fede anche il prete deve vivere certo e se vuole essere a servizio pieno della comunità non può certo andare al lavoro ma i preti moderni guardano oggi non guardano al passato credono o non credono alla gratuità del servizio ministeriale dando anzitutto loro il buon esempio di una vita al servizio pieno della comunità ci avevo detto che qualche fedele lo ricordo quando ero piccolo c'era questa battuta ma vorremmo mettere sulla porta ecco dalla canonica che io sono via senza riferimento al Vangelo sono sempre via una volta quando ero giovane seminarista ci ripetevano che il vero ministro di Cristo deve essere sempre pronto a farsi mangiare dalla gente una frase che mi è rimasta nella testa del resto Cristo stesso prima di compiere il miracolo della moltiplicazione dei pani aveva detto gli apostoli date loro voi stessi da mangiare che è una interpretazione che è difficile da spiegare in italiano ma in greco è molto più facile da capire voi stessi ecco è soggetto voi stessi date loro stessi voi date è oggetto scusate ecco date loro voi stessi la vostra vita da mangiare il brano del Vangelo torna sulle esigenze di un vero ministro di Cristo Gesù ha rimproverato i due fratelli Giacomo e Giovanni perché gli avevano chiesto di poter sedere nell'aldilà nel nuovo regno uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra questi discepoli che cosa avevano capito dell'insegnamento del maestro certe volte io quando leggo il Vangelo mi chiedo ma insomma vabbè non era il primo giorno che avevano conosciuto Gesù dopo magari un anno due anni poi facevano ancora di quelle domande e io mi consolo magari dico dopo tanti anni e voi ma la mia capiscono e abbiamo anche gli apostoli capito niente di Gesù e allora mi consolo Gesù prende l'occasione per ribadire ciò che lui intende per potere e ciò che lui intende per servizio non era la prima volta che parlava dei potenti testendo l'elogio di Giovanni Battista aveva detto che cosa si è andati a vedere nel deserto una canna sbattuta dal vento un uomo vestito con abiti di lusso ecco quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi del re che signor per la viscina no? ora Gesù è ancora più esplicito voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse i loro capi le opprimono Gesù non aveva una bella opinione del potere dei potenti ed è per questo che nei suoi insegnamenti i discepoli insistevano nel far capire i rischi i pericoli le insidie del potere dell'autorità anche del campo religioso chi non ricorda le invettive contro gli scrivi e i farisei che dall'alto della loro cattedra non facevano altro che opprimere la povera gente con inutili pesi anche nelle curie romane e diocesane papi cardinali vescovi e preti di ogni specie portano vesti sontuose io non faccio mai caso ai vestiti o che indossano anche il nostro cardinale mi ha fatto notare certe cose ho i pulsini l'oro le fu mica caso sono mica una donna va bene non faccio caso a queste cose però quando qualcuno mi riferisce a queste cose sto male male che bisogna andare in giro in scena vivono nel lusso anche alla palestra impongono le virtù eroiche al popolo di dio mentre loro frazzolano molto male non so più che il pato precedente del fatto della piscina sono andato in vesti anche nei suoi apparati esteriori la chiesa dovrebbe spogliarsi di ogni lusso vivono nel superfluo e comandano loro non conoscono la crisi e lasciano morire di fame popolazione intere anche le nostre comunità cristiane ora che i preti diminuiscono e che per forza di cose sono rinviati dai laici adesso non ho bastonato i laici una volta per uno dovrebbero finalmente capire la lezione di Cristo sul servizio dopo che per millenni questi laici non hanno fatto altro che contestare l'autoritarismo clericale e facevano anche bene per amore del cielo ma adesso che loro hanno un po' di potere cosa fanno questi laici ho una brutta impressione dopo duemila anni di cristianesimo qualcosa si è mosso tra il clero qualcosa abbiamo capito abbiamo mollato quel potere anche per forza il clero cioè sta capendo che non ce la fa più a tenere a valle i greggi con il bastone ma questo poco che si è guadagnato delegando i laici delle responsabilità non si sta perdendo con la rivincita dei laici che si stanno prendendo il potere talora nelle sue forme peggiori quelle forme che da tempo il clero ha abbandonato come una volta si diceva che l'operario che diventa padrone è il peggior padrone di questo mondo è vero lo dicono tutti così i laici che prendono in mano il potere sono i peggiori ancora del clero anche qui forse è colpa nostra di preti che dopo secoli di potere si sentono ora falliti per non aver educato il popolo ad assumersi le loro responsabilità secondo l'insegnamento evangelico del servizio gratuito e allora oggi cosa facciamo non possiamo più comandare noi diciamo no ma beh fa ti no fa ti però per forza lui cosa fa non è stato educato a servizio ripeto il clero per forza di cose ha mollato il potere ma questo potere finito nelle mani di un laicato nel paro in genere è chiaro che sta rifacendo gli stessi errori del clero autoritario due parole potrebbero salvare la chiesa e io penso anche il mondo intero servizio e bene comune se noi imparassimo cosa significano queste due parole servire e il bene comune servire il bene comune nel contesto dalla gratuità ma come siamo lontani e il bene comune e il bene comune e il bene comune